Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 3 km di coda tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna. Sempre sulla stessa tratta ma in direzione Roma un chilometro di coda a causa di un altro incidente avvenuto al chilometro 348. Passiamo alla FIPI lì dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra la diramazione Pisa Livorno e Ponte d'Arest in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia si ricorda che a causa di lavori fino al 22 dicembre sarà in vigore uno scambio di carreggiata con chiusura dello svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e in uscita in direzione Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!